E' elisa che stai! Stai spaventando! Si perde un po' di tempo Qualche metro non è nulla Però adesso la fila si è allungata E c'è una squadra che si è diventata grande Questa è il numero 2 Qual è? Ecco qua la squadra La spazia nell'ordine Vai Marisa! Che la fai? Dai Marisa! Dai Marisa! Dai Marisa! Dai Marisa! Dai Marisa! Inplazionista! La scena si era già incambinato Dai ma qui vediamo Dai 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 E intanto a scena La riceve del testimone Quindi avendo ancora frazioni veloci Vediamo In un quadro bianco Di Siena Che cambia che va a tenere il vantaggio Sulla spezia Siena aprile alla spezia Mentre tanto Mentre tanto si rifà sotto Anche Arezzo Dermi Siena Arezzo In questa seconda serie Poi più tardo Arezzo Per ora è in vantaggio Siena Vantamante 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 E qui vediamo C'è Chiara Vai Chiara Vai Chiara! Vai Chiara! Vai Chiara! Vantamante 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 Quello di colore Quello di colore Si Sì 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 Vai 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 Siamo E qui sarà importante Il tempo di Siena Che vince In testa dall'inizio Alla fine La serie Numero 2 Vai Bravi Dai